Un elemento sul quale voglio dire una cosa velocizione. Perché nessuno l'ha seguita del Partito Democratico, visto che non è l'unico ad avere dei mal di pancia? No, ma un sacco di colleghi. Io ho fatto un intervento al Senato di tre minuti, ho detto davanti al Presidente Conte le cose che sto ripetendo e tutti hanno. Hai ragione su tutto, però non si può. Però è una questione di responsabilità. Ma perché lei pensa che sarebbe stato meglio andare a votare con tutti che dicono Salvini aveva il vento in poppa? Prima c'era un ampio margine per fare un governo diverso da questo. Se quando Di Maio si è seduto di fronte a Zingaretti e gli ha detto Conte prendere o lasciare, Zingaretti avesse risposto, sai cosa c'è? O Draghi, o Cantone, o Barca, o Giovannini, altrimenti andiamo a votare. Uno spazio secondo me c'era. Draghi lo tolga subito. Togliamo Draghi. Perché Draghi è ancora un chiediamo l'incorso Presidente della Dicea. Facciamo uno sforzo. Invece che le persone che si sono insultate per quattro anni, il ceto politico dei due partiti, facciamo un governo politico ma con grandi personalità, Barca, Becchetti, Magatti, Giovannini. Ma io dico, ma si può fare un governo in cui davvero ci sono i gruppi dirigenti che si incontrano? Ci sono state due direzioni e mi taccio. La prima, tutti e due senza dibattito. Zingaretti interviene, dice guardate vado con un mandato, c'è un punto di discontinuità. Conte no. Dopo due giorni Conte era sì. Una seconda nella quale io ho votato contro perché il mandato non veniva sistematicamente rispettato. Ora io credo che il mio partito, adesso Giannini diceva una cosa, il proporzionale. Ma il proporzionale è il tradimento per definizione dello spirito del PD. E il mio partito, vede mi tradisco, dico ancora il mio partito, quando va dai suoi circoli, dai suoi elettori, dai suoi amministratori a dire che abbiamo cambiato idea sul fatto che le coalizioni si presentano prima e davanti agli elettori e non se ne fanno sei giorni in tutto il Parlamento? Perché il suo ex partito ha fatto un po' di pasticci perché la legge elettorale, come la Renzi, quella che abbiamo oggi, consente questo, di fare queste alleanze perché se no non ci sono maggioranze. Ci siamo già dentro.